Special finalmente Napoli questa sera qui da Palermo, direttamente da Palermo. Abbiamo un CD, un CD molto importante, un CD di un mito della canzone partonopea. Si chiama I Cassico, il mitico Gianni Celeste, un pezzo di storia della canzone partonopea chiamato La Leggenda. Stasera a Palermo lo abbiamo incontrato per caso. Buonasera Gianni. Buonasera a tutti gli aspettatori. Come stai andando? Mi immagino un po' stanco dal viaggio, no? No, no, ma figurati, ci siamo abituati dopo tanti anni, per noi è una passeggiata venire a Palermo. Ecco, intanto complimenti per il CD, so che stai facendo molte firma copie, so che sta andando alla grande. Sì, dopo questa volta ci siamo stati un po' tanto, abbiamo perso più tempo per la scelta dei brani, per gli arrangiamenti e sono passati quasi due anni e quindi la gente è contenta del prodotto e sta funzionando bene. Gianni Celeste è sempre Gianni Celeste. Poco fa in macchina parlavamo tra noi, no? E dicevamo, dopo 40 anni, come fa Gianni Celeste ancora a essere sulla Cresta dell'Onda, così giovane, così giovanile come sempre, ma soprattutto sulla Cresta dell'Onda? Non è facile nel mondo della canzone napoletana soprattutto. Ti deve adeguare ai tempi, bisogna adeguarsi con i suoni nuovi, con i testi, il linguaggio che c'è moderno e quindi se ti aggiorni sicuramente la gente ti segue sempre. Ecco, autori importanti di questo tuo CD? Sì, ce ne sono diverse, adesso non mi ricordo perché devo leggerli, però ci sono diversi autori di Napoli, insomma. Quindi ogni volta è un, diciamo così come dire, Palermo ti porta fortuna, perché so che sei stato diverse volte a Palermo e ci sarai ancora, ci sarai stasera? Sì, questa è la prima serata del 2018 che faccio in piazza stasera e sicuramente, non sicuramente, già ne ho tanti altri, che adesso non ricordo le date, ma se vanno nel sito di Gianni Celeste, Gianni Celeste Tour, ci sono tutte le date. Abbiamo visto che andrei anche a Colonia. Sì, andrò a Colonia, andrò in ottobre, farò il tour europeo che inizierà giorno 5 e andremo a Colonia, andremo in Germania, in Francia, in Belgio, in Svizzera, comunque sarà un tour di un mese. Ecco, una cosa, cosa vorresti dire dal tuo punto del cuore, perché ti conosco da una vita, ti seguivo da piccolo, adesso siamo diventati più grandi, al tuo pubblico, a chi ti sta ascoltando in questa trasmissione finalmente a Napoli? Tra i tuoi fans, cosa vuoi dire? Mi raccomando, sempre Gianni Celeste. Sempre Gianni Celeste e comprate solamente l'originale. Quindi stasera sarai a Borgovecchio, sarai in piazza, quindi noi ti seguiremo e ti ringraziamo per la tua gentilezza. Grazie a voi e un saluto a tutti gli rispettatori e spero che il concerto vi piaccia. Va bene, grazie a tutti per Finalmente Napoli, abbiamo avuto il mitico, la leggenda Gianni Celeste. Buona serata a tutti. Grazie 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 a tutti.